Secondo me è complicato trovare numeri in Parlamento, lo dico con dispiacere perché è una legge che secondo me andrebbe fatta, è una legge giusta ed è una legge a cui abbiamo anche lavorato tanto alla Camera dei Deputati ed è una legge equilibrata, si sentono tante cose in giro non vere su quello che prevederebbe questa legge, in realtà è una legge comunque a mio avviso equilibrata. Proprio però perché ho avuto per tre anni la responsabilità dei rapporti col Parlamento e quindi sostanzialmente di verificare che ci fossero i numeri per far passare le leggi insieme a Zanda, Rosato e Capigruppo, sappiamo anche che adesso avere i numeri per approvare questa legge è molto complicato visto la situazione attuale. Ci sono state fasi in passato in cui abbiamo anche scelto pur di approvare delle leggi importanti anche in materia di diritti come quella sulle unioni civili di mettere la fiducia rischiando il tutto per tutto per una legge che ci sembrava giusta. Oggi trovare i numeri per approvare lo Ius Soli mi sembra molto complicato.